La lista regionale numero 2, avente quale il candidato presidente della giunta regionale Roberto Chiuto ha riportato nell'intera regione la maggiore cifra elettorale regionale, pari al numero 430.828 voti validi. Pertanto proclama eletto presidente della giunta regionale della regione Calabria il candidato Roberto Chiuto, il quale fa parte del Consiglio regionale. Roberto Chiuto di Forza Italia è stato proclamato presidente della regione Calabria. La proclamazione giunta a 25 giorni dal voto del 3 e 4 ottobre scorsi è avvenuta nella corte d'appello di Catanzaro. Finalmente ci siamo, ha detto Chiuto, c'è tanto da lavorare e da oggi siamo pronti per dare risposte alla Calabria. Sì, finalmente ci siamo, comincia oggi una nuova stagione, ho utilizzato questi giorni per fare un'attività di ricognizione anche fuori dalla Calabria. C'è da costruire l'apparato burocratico di questa regione, quindi da oggi si comincia. Credo di avere la motivazione giusta, l'esperienza, i rapporti romani con le leadership politiche nazionali per aprire in Calabria una nuova stagione. E per quanto riguarda la giunta, Chiuto ha aggiunto? Si farà nei tempi stabiliti dallo statuto, non aspettatevi. Spirli sarà confermato, Presidente. Questo lo saprete quando presenterò la giunta. Io sono stato sostenuto dai partiti, ho rispetto dei partiti, ma faremo la migliore squadra possibile per la Calabria. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, dopo la proclamazione, si è insediato nella città della regionale ad accoglierlo davanti all'ingresso dell'edificio. Il Presidente facente funzioni, Nino Spirli, che ha arretto il Governo regionale dopo la scomparsa a ottobre 2020, della Presidente Iole Santelli. Ero impaziente, non vedevo l'ora di farlo, ha detto Chiuto. Raccolgo il testimone da Spirli, che ha svolto un lavoro complesso, in questo anno molto triste per la scomparsa di Iole Santelli. Cambieremo la Calabria, ha aggiunto Chiuto. Non sarà in un anno o due, ma la cambieremo. Credo di avere l'esperienza giusta, la motivazione giusta e i rapporti con i vertici della politica romana. Conto di rendere visibili i primi risultati nei prossimi mesi. Da oggi sono al lavoro per dimostrare che la Calabria, come aveva iniziato a fare Iole Santelli, è una regione che può essere raccontata in modo differente rispetto a come è avvenuto finora. Ho utilizzato questi giorni per fare un'attività di ricognizione anche fuori dalla Calabria. C'è da costruire l'apparato burocratico dell'ente e credo che ci siano tante risorse inutilizzate all'interno dell'ente che vadano motivate, così come ci sono tante esperienze fuori dall'Italia, che potrebbero darci una mano magari dando la possibilità di importare buone pratiche. Ci sono tantissimi problemi, ha concluso Occhiuto, che meritano di essere affrontati da subito. Ho chiesto al Ministro della Salute e a quello dell'Economia di essere nominato commissario alla Senità in uno dei prossimi consigli dei ministri, dopo la mia proclamazione di oggi. Credo che la nomina avverrà abbastanza presto, lo ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Credo che la mia nomina commissario avverrà abbastanza presto. Ho svolto un'attività di ricognizione anche sui subcommissari. Non basta il commissario per affrontare e risolvere i problemi della sanità. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che insieme al commissario è necessario che ci siano degli esperti che vengano ad aiutarli. Ho parlato con la funzione pubblica per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale attraverso un emendamento che ci renda più agevole la selezione di questi esperti e renda più appetibile e incentivata l'opera di cambiamento della sanità in Calabria anche da parte degli esperti. Primi segnali di vita operativa per la nuova Regione Calabria dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre. La Corte d'Appello di Catanzaro ha proclamato Presidente eletto Roberto Occhiuto che subito dopo si è insediato alla cittadella nel suo nuovo ruolo. Quanto alla Giunta ha detto di non avere fretta, che tutto sarà fatto nei tempi previsti dallo Statuto e che l'esecutivo sarà composto da persone perbene e competenti. Alla domanda se Spirli sarà il suo vice Occhiuto ha glissato con un lo saprete quando sarà fatta la Giunta. Nel frattempo il Tribunale di Catanzaro ha proclamato i consiglieri regionali eletti col voto del 3 e 4 ottobre nella circoscrizione Calabria Centro, Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia. Ad essere proclamati sono stati nella maggioranza di centrodestra Michele Comito e Valeria Fedele di Forza Italia, Antonio Montuoro di Fratelli d'Italia, Filippo Mancuso e Pietro Raso della Lega, Francesco Denisi di Coraggio Italia. Nella minoranza di centro-sinistra sono stati proclamati consiglieri regionali Alecci e Raffaele Mammoliti del PD e Francesco Afflitto del Movimento 5 Stelle. Nella minoranza del Polo Civico è stato proclamato consigliere regionale Antonio Loschiavo di De Magistris Presidente. La lista regionale avente quale candidata presidente dell'Aggiunta regionale Amalia Cecilia Bruni ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista regionale avente la maggiore cifra elettorale regionale. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 numero 1 proclama eletta consigliera regionale la candidata Amalia Cecilia Bruni. Amalia Bruni, candidata presidente della Regione Calabria per il centro-sinistra, sconfitta nelle elezioni del 3 e 4 ottobre, è stata proclamata consigliera regionale dalla Corte d'Appello di Catanzaro. La proclamazione ha fatto seguito a quella del presidente eletto Roberto Chiuto, candidato del centro-destra. Al termine della lettura del verbale, Occhiuto e Bruni si sono salutati con una stretta di mano. Sicuramente è un momento importante questo, un momento importante. Io comincio come una scolaretta da neofita questa attività, per cui ce la metterò tutta come in tutte le situazioni in cui mi sono via via ritrovata, da affrontare con soprattutto grande responsabilità, con grande entusiasmo. Ovviamente cercando soprattutto di dare dei risultati, anche se dal seggio della minoranza, proprio per i nostri conterrani e la nostra terra di Calabria che ha seriamente bisogno di grande aiuto. È ancora allerta rossa su Calabria e Sicilia. Nelle prossime ore la violenta ondata di maltempo che sta interessando all'aria farà sentire ancora i suoi effetti con piogge temporali intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa giovedì. Dal tardo pomeriggio di venerdì sono attese precipitazioni diffuse che localmente saranno anche molti intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale. Continueranno inoltre ad imperversare venti fino a Burrascaforte con mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento ha dunque valutato per la giornata di venerdì e quella di sabato un'allerta rosso sul settore ionico centrale della Calabria e sui settori orientali della Sicilia. È allerta rossa a partire dalle ore 15 di venerdì e per tutta la giornata di sabato sulla fascia ionica catanzarese e in parte crotonese. Già da venerdì e per la giornata di sabato, secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequenti attività elettrica. Previsti anche venti da Forti a Burrasca in prevalenza dei quadranti orientali con raffiche fino a Burrascaforte e mareggiate lungo le coste esposte. Oltre che sul Catanzarese, le precipitazioni più intense sono attese sul versante ionico della provincia di Reggio, sul Vibonese e sul Crotonese dove per venerdì è stata segnalata l'allerta arancione, mentre da sabato è prevista allerta gialla. Allerta meteo rossa fino a tutta la giornata di sabato 30 ottobre è quanto comunicato nell'ultimo bollettino della protezione civile regionale a seguito del quale il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto fino alla mezzanotte di sabato la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblica e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche e degli impianti sportivi pubblici e privati della città. Inoltre è stata disposta la chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo e l'interdizione della sosta di persone o mezzi lungo le fasce di rispetto di tutti i corsi d'acqua. Si rinnova la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario a evitare i sottopassi, ad abbandonare i piani semi-interrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti, tombati a non sostare in prossimità di aree con versanti a clivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi. Sono in aumento i contagi da Covid-19 in Calabria dove si è registrata anche una vittima con il totale che sale a 1.447. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 197 nuovi casi contro i 174 di giovedì con un numero di tamponi fatti sostanzialmente uguale. Il tasso di positività sale così al 5,2% dal 4,47% di giovedì in crescita nel saldo tra ingresse e uscite anche i ricoverati in area medica più 4 mentre scendono di 1 quelli in terapia intensiva. Inizietta venerdì mattina a Catanzaro l'udienza preliminare per l'inchiesta denominata Pharma Business coordinata dalla DDA su presunti illeciti nella vendita all'ingrosso di farmaci nella quale sarebbe stata coinvolta anche la cosca di Indrangheta, grande aracri di Cutro e che vede coinvolti anche imprenditori, risponenti politici e funzionari pubblici. Nel corso dell'udienza hanno chiesto di costituirsi parte civile la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Catanzaro, quest'ultimo però solo per le posizioni che riguardano coloro che hanno commesso reati violenti a Catanzaro e quindi non nei confronti di Domenico Tallini per lungo tempo consigliere comunale e anche ex assessore al Comune e attuale coordinatore provinciale di Forza Italia, partito che governa nella maggioranza l'amministrazione del capoluogo. Tallini è imputato nel processo ed è accusato in qualità di assessore regionale di concorso esterno in associazione mafiosa e di voto di scambio politico mafioso. Al momento sono in dodici ad avere richiesto il lerito abbreviato. La prossima udienza è stata fissata per il 3 novembre. La Camera di Commercio di Cosenza ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Fondazione San Francesco di Paola Ollus. L'accordo impegnerà la Camera di Commercio a promuovere iniziative volte ad incentivare il turismo religioso e a creare attività formative volte alla salvaguardia dell'immenso patrimonio artistico, culturale, materiale ed immateriale, custodito nel santuario di Paola, rappresentato non solo dalle imponenti strutture architettoniche ma anche dalle due biblioteche monumentali, dall'archivio storico e dal museo in fase di ultimazione. Noi siamo a fianco al santuario per poter promuovere questo territorio, non soltanto turismo religioso ma anche poter in qualche modo aiutare il santuario nel restaurare le molte cose e siccome abbiamo le Camere di Commercio anche all'estero San Francesco di Paola è una figura molto importante. Quindi ci rivolgiamo pure a loro per aiutare il santuario a restaurare dei libri, quei beni culturali che anche c'è dalla biblioteca a quegli affreschi che ci sono all'interno. Quindi la Camera di Commercio in qualche modo il suo ruolo, la cultura con il turismo promuove il territorio, in questo caso il santuario di San Francesco di Paola. Il protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Cosenza è in sintonia con gli orientamenti del recente sinodo indetto da Papa Francesco che verte su determinati programmi ed alcune parole chiave tra cui ascolto, dialogo, partecipazione, missione e comunicazione. Con questo protocollo d'intesa noi vogliamo continuare l'opera di evangelizzazione portata avanti da Francesco di Paola più di 600 anni fa continuando ad ascoltare le esigenze di questo nostro territorio, continuando a dialogare con le istituzioni e con gli enti per la promozione non solo del patrimonio artistico e culturale ma anche della nostra storia. Sono molto soddisfatto questa mattina perché alla collaborazione con l'Università della Calabria, con il CNR, con i Musei Vaticani, con la Biblioteca Nazionale di Cosenza si unisce anche la collaborazione con la Camera di Commercio. Vanto e lustro di questa nostra terra. Reggina ancora da urlo sbanca anche Perugia, la squadra Maranto, terzo successo consecutivo, secondo in trasferta e Arpiona il secondo posto assieme alla Benevento Vittorio Sacrotone. Gara subito incanalata dall'undici di Alfredo Aglietti che sblocca il punteggio con il solito implacabile bomber Galabino Valquinto su assist di Nicola Bellomo. L'attaccante bulgaro si conferma un'autentica garanzia per la categoria. Raddoppio al 45esimo proprio di Bellomo, 0-2 all'intervallo, ma la reggina sa di non dover emollare la presa. Nel secondo tempo il Perugia si scara 20 in attacco per provare a segnare e tornare in partita, ma Turati e compagni con ordine e attenzione difendono il preziosissimo doppio vantaggio e tornano in Calabria con tre punti di platino. E' festa grande per i supporter Samaranto in curva ospite al Curi. Nei guai invece il Crotone che perde ancora, a Lezio uscita passa il Benevento di Fabio Caserta, reti ospiti di Letizia al quinto su assist di Acampora. Il Benevento mette al sicuro il risultato al minuto 53 con la Padula. All'ottantottesimo espulso Giannotti tra i rosso-blu. Crotone ancora una volta fragile, leggerino e sterile. Enesimo KO che certifica il terz'ultimo posto solitario della squadra pitagorica, che non riesce a uscire fuori da questo brutto tunnel. La vittoria prestigiosa con la capolista Pisa per ora ha rappresentato non la svolta, ma soltanto un episodio isolato. Il signor Daniele Rutella di Enna, coadiuvato agli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Mattia Massimino di Cuneo, dirigerà l'incontro Bari-Catanzaro, match-clou della dodicesima giornata in Serie C, raggruppamento C. Quarto ufficiale sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Gara molto importante sia per i biancorossi pugliesi che per i giallorossi calabresi. Mister Calabro ha convocato 25 giocatori per la sfida del San Nicola, ha recuperato il difensore Martinelli ed il centrocampista Rolando. I due comunque probabilmente non partiranno nell'undici titolare. Anche quella contro il Bari, una partita che vale tre punti, ha detto Calabro, vale tre punti come la precedente contro il Monopoli e come la successiva contro il Messina. Certo, si incontrano le prime due del girone, per questo è una partita importante per molti, così come lo è per me. Ma ho preparato la gara come tutte le altre sui dettagli, sempre in maniera scrupolosa. Si prepara da sola a livello di sollecitazioni nervose. Di fronte due squadre che arrivano entrambe da delle sconfitte allo scontro diretto. Le sconfitte fanno parte del percorso di ogni squadra, dice Calabro, anche se quelle dell'ultima giornata sono molto diverse per come sono maturate. Ancora da valutare le condizioni di Martinelli e Rolando, sono al limite, valuteremo ancora, dice il tecnico. Sono molto felice anche per il ritorno del tifo organizzato. Uno sguardo agli ex, Rolando e Cianci da una parte, Celiento e Maita dall'altra. Fischio d'inizio allo stadio San Nicola, sabato alle ore 14. Aggiornamenti e collegamenti su questa sfida, come ogni fine settimana. Nelle programma RTC Diretta Sport, in diretta radio televisiva su RTC, a partire dalle ore 13.55. ... ... ... Autore dei sovrapposti